Tra i dolori e i danni che la pandemia sta procurando nel nostro tempo ci sono anche dei danni quasi invisibili e tra questi ci sono i danni e i costi che il Covid ha generato nelle nostre relazioni, a quello che noi economisti chiamiamo il capitale relazionale, cioè quel patrimonio di amicizia, di rapporti umani che si costruisce per tutta la vita. Cioè noi, al di là dei vari colori, ragione giallo-rosso delle nostre province e regioni, ciò che è certo è che ormai da mesi abbiamo dovuto tutti ridurre, a volte eliminare, gli incontri con i nostri amici e parenti. Ma l'amicizia, lo sappiamo tutti, è sottoposta a deterioramento per disuso e per abbandono, come le case, come i palazzi, i giardini, i fiumi, che se non li curiamo perdono valore, cambiano aspetto e l'ambiente attorno se ne rimpossessa, fino a non farceli vedere più, a non riconoscerli. Chiaramente non parlo di quei pochissimi amici e parenti, familiari, che non sono sottoposti a questa forma di obsolescenza, o lo sono molto meno. Quei pochissimi rapporti che sono andati avanti, a volte sono anche rafforzati durante il Covid. Questi rapporti ci sono, ma sono pochi, a volte pochissimi. Eppure la nostra felicità e il nostro benessere dipendono anche dai tanti amici normali. Non la moglie, i genitori, i figli, l'amico del cuore, da una vita. No, dipendono la felicità e il benessere da amici normali, che non sono amicissimi o speciali, ma che fanno la nostra vita più ricca e più bella. Sono gli amici che incontriamo ogni tanto, per i compleanni o per gli aperitivi, gli amici del calcetto, per noi maschi, della partita a carte al bar dello sport. Quelle chiacchierate tra amiche, ad esempio, dove il primo piacere sta proprio nel tempo sprecato, quando ci dimentichiamo l'orologio per stare semplicemente insieme a scambiarci l'anima e le parole. Come dicono i miei amici africani, la prima merce che si scambia al mercato è la parola. O anche i passaggi in auto con i colleghi, dove non si parlava di lavoro, ma di tutto il resto. Un resto non lavorativo che rendeva più umano anche lavorare. In questo anno questo tipo di rapporti le abbiamo ridotte molto, le abbiamo ridotte troppo. Ci siamo abituati a trascorrere pomeriggi e giorni di festa da soli o con una o due persone. Magari sempre le stesse, o quasi. Nei primi mesi della prima ondata ci stavamo male per questa assenza. Sentivamo la carestia del corpo degli amici. Poi, però, col passare dei mesi ci siamo abituati anche alla solitudine e a questa socialità a scartamento ridotto. Fino a quasi non sentire più la nostalgia per i mancati abbracci, per i non incontri, per quei baci che erano il primo linguaggio dell'amicizia. Noi umani sappiamo abituarci anche alla nostra infelicità, lo sappiamo. Non ci pensiamo, non ne parliamo tanto. I media e la televisione parlano d'altro. Non è tra le priorità del recovery plan. nessun politico mette questo deterioramento dei rapporti umani tra le sue urgenze. Ma noi usciremo da questa crisi, prima o poi, forse più poi che prima, con una forte svalutazione del nostro patrimonio relazionale. Non ce ne renderemo conto subito. Riprenderemo uscire insieme, a frequentare gli uni le case degli altri. Certo, ma questo anno mancante, come più dell'anno di scuola dei nostri ragazzi, lascerà un vuoto, lascerà un buco nella tela delle nostre relazioni. Ma questo buco non lo tappiamo, lasciamolo in evidenza, perché solo vedendolo lo potremo ricordare.